vediamo la terza parte del video di pallone che per una merda di gatto bianco con la faccia di cazzo nero mi sono struppiato una coscia speriamo solo che non mi porta altra sfortuna il video di pallone giocamma la prossima parte la prossima parte oh guadaglio ma guarda che scrive un'altra vai 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 va 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 a vista vado ti passa uuuh culo questo piatto è pure la pianta corre da lè più eh giuseppe che cazzo vuoiarenti ma tu vuoi no no i i no no Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Noi! Già venire un ramo con la terra! Ramo? Per la pianta! Chi è stato? E' stato Pinocchio! Pinocchio! Mi rompo le coste! E' stato Pinocchio! E' stato Pinocchio! Ma io non ho fatto! E' stato P.P.C. Nessuno ci ha messo P.C. Il culo! Ma io non ho la primavera Ma sai che è da mettere altro un po' così? Sono già l'aurcato della terra! E' stato di carne! P.C. Mi sono fatto! Ecco sì! совершi un po' di pianta? E' un po' di pescarsi! Oppure? andiamo a recuperare la palla sotto la miniera del barbone ricevelato ma guarda tutti ma guarda qui Giuseppe che guarda lui c'ha? che? oh no 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 è già stacca a sotto mi trovo bene cerchiamo di recuperare di nuovo il pallone sotto le miniere ma perché non direi chi è? non fa niente non fa niente abbiamo le decine oggi ai vestiuali abbiamo le decine oggi vestiuali si affa con l'asulo 2-0 2-0 2-1 4-1 4-1 5-1 come avete messa che la seggia lì? vieni Andri, entri la seggia? entri qui è vero? si e la vai a mettere lì si donna ti presenta Terminator con il spugliatore hai avuto la camera ragazzi incominciamo il prossimo video di parte di pallone